Alfio Sciacca, alias Mago Paracelso, settantenne catanese nato da Cireale ma residente da Cicatena, ha scelto la provincia Babba per incannare la gente con la sua magia anti-omosessuali. Il finto guaritore, accusato di truffa aggravata, andava a Pozzallo due volte a settimana, dove aveva preso in affitto uno studio medico in via del Pozzo e dove accoglieva gli omosessuali. Attualmente cinque nella lista ufficiale trovata nello studio per guarirli, con l'ausilio di talismani, libri, amuleti e carte. Il truffatore degli omosessuali ha ben pensato di farsi clienti per pubblicizzare la sua attività attraverso l'annuncio sul giornale. All'esterno del suo studio sono state sequestrate le tabelle pubblicitarie, da cui si legge Mago Paracelso, esperto in guarigione, chiromante, cartomante, astrologo e medium. All'interno dell'abitazione vi erano contratti di locazione di immobili ubicati in altre regioni del meridione. Quello di Pozzallo è già stato sequestrato. Le doti magiche del Catanese hanno tirato anche l'attenzione dei giornalisti delle Iene, che ieri si sono precipitati nello studio per chiedere delle prestazioni, la cui somma richiesta dal Mago si è girato ai 5.000 euro. Ieri il Mago si è alterato davanti alla presenza delle Iene, che provocandolo hanno cercato di farsi spiegare come è venuta a conoscenza delle sue doti. Il Catanese ha infastidito e li ha sequestrate all'interno dell'abitazione, ma loro sono riusciti a chiedere aiuto ai carabinieri che sono arrivati subito sul posto. All'interno dello studio non c'era traccia dei giornalisti delle Iene, che riuscendo a scappare sono stati trovati in via Vittorio Veneto a Pozzallo. La Polizia Municipale, intervenuta insieme con i militari, ha restituito ai giornalisti il microfono che aveva sequestrato il finto mago. I giornalisti hanno deciso di non sporgere alcuna denuncia per sequestro di persona, perché hanno riferito. siamo riusciti comunque ad avere la nostra intervista.